Gentili telespettatori, buona giornata. Giuseppe Conte, ma gli si allunga il naso un po' come Pinocchio. Dice, ma sono troppi nì quelli che ricevo, né sì né no. Lui dice non offro posti. Viene in mente la pubblicità, ma solide realtà. Non offro posti, ma sta lavorando a un maxirimpasto. Il maxirimpasto libererebbe tanti posti da offrire a tanti. C'è chi vuole il ministero come Ciampolillo, mi piacerebbe fare il ministro dell'agricoltura. Dice, no. Lui vuole evitare il Conte Terzo perché ha paura, non vuole dare le dimissioni. Se poi mi fanno un brutto gioco e se poi non mi rinominano più, io che faccio? Torno all'università come la ministra d'Italia Viva. Insomma, una sua lista poi ruberebbe metà dell'elettorato a PD e 5 Stelle. Un suo partito dal 15-17% porterebbe via un 7-8% al PD e un 7-8% al Movimento 5 Stelle. Diventerebbero dei partiti intorno al 10 o meno del 10%. E poi così, lui creando una sua lista, PD e 5 Stelle, non lo sosterrebbero più, perché diventa un nemico, non diventa un super partes senza partiti, ma diventa un partes, un vero e proprio concorrente. Beh, quando scende dal Quirinale, Conte non ha proprio un'espressione che possiamo definire allegra. Beh, la stanchezza, vabbè, pesante. Anche noi che abbiamo fatto una diretta praticamente di quasi 12 ore, insomma, solo a sentirli parlare è stato pesante. Beh, insomma, c'è ansia diffusa, l'insoddisfazione di non trovare una soluzione, anche avendo trovato una soluzione con una maggioranza relativa. Lui, il Giuseppi, inesperto politicamente, esultava con la maggioranza relativa. Ma è una maggioranza relativa troppo risicata, non può andare avanti, le commissioni parlamentari sono bloccate e poi basta un nulla, un tac, per fare saltare, per fare saltare tutto. E lui, Conte, non riesce a spargere ottimismo a grappoli, non riesce a buttare in giro grappoli di ottimismo. Ecco, un ministro dice basta un nulla perché possa saltare tutti, il tempo e poco. Dieci giorni, chi dice una settimana per allargare la maggioranza. Ebbè, come l'allarghi la maggioranza? 156 voti e hanno votato 152 all'ultima discussione di ieri in Parlamento. Beh, le telefonate da Giuseppi verso i mercenari sono tante. Come ricordiamo, la maggioranza assoluta è 161, ma Franceschini fissa in 170 una vetta di stabilità al Senato. Beh, da 156 a 170, insomma. Togliendo poi i senatori a vita che non vanno a votare, cominciamo ad essere intorno ai 20, a una truppa di 20. Ma dove trovi i 20 da convincere? Ci sarebbero anche, ma devi dargli un posto di lavoro. Cioè il mercenario, che potenzialmente è qualunque deputato in difficoltà, che sa di non essere riconfermato, è al mercenario, lo dice la parola stessa, devi offrire una controparte economica. Se no non si muove. Se no ti dice, ma non lo so, vediamo. Dice, ma lei cosa mi offre? Non posso offrire niente, però un progetto. Il mercenario dice, beh, lei sa io col progetto che cosa ci faccio, glielo devo proprio dire che cosa ci faccio col progetto. A me serve il lavoro, devo pagare il mutuo, ho delle spese, lei mi garantisce un lavoro per la prossima legislatura e il mio ni, il mio so diventa un sì. Se lui non offre posti di lavoro, dice, beh, io che cosa posso offrire? In questo momento lui non può offrire quasi niente. bene. Beh, intanto come trovare questa soluzione da parte di Conte? In mezzo, ovviamente, non è solo trovare la soluzione, è in mezzo alla rabbia sociale, alla pandemia e alla crisi economica che avanza. Bene. Poi trovare questi mercenari e fare un'alleanza politica che abbia un'anima e un progetto, poi quello è quasi impossibile. Quindi Conte, per rispondere alle aspettative del Quirinale, che vuole un bel gruppo parlamentare dove mettere dentro tutti i mercenari, Conte tratta con Bruno Tabacci, a Montecitorio, per mettere su un mondo ex DC. Beh, ma intanto quell'appello europeista e anti-centrodestra ai popolari, liberali, socialisti, renziani, eccetera eccetera, pentiti, beh, non ha trovato proprio quel seguito che si aspettava. Ma il bersaglio grosso qual è? È Forza Italia, dove ci sono tanti, pronti ad andare via. Ecco. Con la promessa del proporzionale attraverso Renato Brunetta e Gianni Letta. Beh. Ma intanto c'è anche pressing su Lorenzo Cesa, col simbolo dell'Udc, che vale tre senatori, che potrebbe attrarre una decina di fuggiaschi da Forza Italia. Beh. Questa operazione che lui chiama costruttori, che sono poi dei volgari mercenari, è difficile adesso, proprio perché i posti da offrire in questo momento non ci sono, perché al mercenario cosa gli si dice? Ti offro un posto nel partito di Conte che non c'è? Ti offro un posto nel PD che non puoi? Nei 5 Stelle che non esiste? E quindi che cosa gli offri? Una poltrona da sottosegretario, quella lasciata libera da Scalfarotto, ma è una poltrona. Probabilmente è già stata promessa a quelli che hanno già fatto il cambio, il salto della quaglia. E agli altri che cosa prometti? E allora sta pensando di fare un bel rimpastone. Un bel rimpastone vuol dire cancellare tutti i ministri sottosegretari. Sono 65 posti di lavoro. Quindi meno posti di lavoro ai partiti attuali dicendogli guardate, devo darli a tutte queste persone che vengono qua ad aiutarti. Quindi ti tolgo il ministero, lo do a Tizio, perché Tizio viene con noi e vuole una controparte economica. Non gli possiamo offrire un lavoro in un partito nella prossima legislatura, però lo facciamo ministro. Lo facciamo ministro. Sale come star nella cronaca nazionale. Ebbene, questo Conte si mostra determinato e convinto di farcela, ma è solo un qualcosa di facciata, perché in questo momento tutti questi ruoli e posti di governo che lui potrebbe offrire li deve liberare facendo appunto un rimpasto. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.